... Mister, domenica scorsa, ottava vittoria consecutiva, play-off nazionali ipotecati, ma questo Giulianova non sembra proprio volersi fermare. No, no, ma noi dobbiamo, mancano due partite, dobbiamo cercare di fare al massimo il risultato, nel senso che dobbiamo dare continuità, soprattutto alla prestazione, e prepararci poi ovviamente bene per i play-off. Di contro domani un Celano che accaccia di punti sicurezza per la salvezza, quindi si prevede una battaglia? Beh, sicuramente, loro non so se gli manca un punto, ma noi da parte nostra sicuramente andremo a fare la partita, come ho detto prima, per cercare di allungare queste serie positive di vittorie. Dall'infermeria ci sono recuperi? Ma no, sono fermi ancora Iacovoni, Di Giuseppe e Pera, quindi ma già sapevamo che non potevamo recuperarli. All'infermaggio All'infermaggio Grazie a tutti.